allora di oggi parla della delle osha notte di dunque le direttive delle osha notte con i dettagli diciamo più per gli uomini diciamo che per lui e poi sempre noi studiamo anche di più però siccome mi voglio soffermare oggi si è un masch ultima lezione siamo dunque all'ultima parashah parashat zotaberachah kumash tevarim capitolo 33 pasuk 27 come il shemenza e ti eri ho parlato dell'olio di asher e puro l'olio che deve essere puro dunque tutti a pagina 871 abbiamo tre psukim oggi però faremo ecco massaggio dell'ultimo ok allora i cieli sono stati scelti come una residenza per hashem che precede ogni cosa e sotto di essi vi sono i due famosi re potentissimi si honeog e i re di tiana anche ora sono le potenze del mondo egli ha allontanato il nemico da davanti a te e ti ha detto distruggilo e questo se allora sapete che a sin fattora leggiamo la parashah di zotaberachah e direttamente subito dopo la parashah di bereshit e ci sono tre tre sposi il chatan meona che è quello che parte da meona il primo passo che adesso leggiamo tutte insieme poi appunto torah quello che conclude inizia che quello che inizia la torata dunque tutte insieme anche al testo davanti lega con me chi no ripete dopo di me meona 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 con la men meona meona elohè elohè edem C'è den Umi tachat Umi tachat Zrooot Zrooot Olam Olam Vayigarish Vayigarish Mi pannecha Mi pannecha Oyeb Vayomer Vayomer Hashmed Hashmed Ok, allora abbiamo dunque tre psuchim oggi, vediamo Rashi, dunque a dimora di Hashem dei tempi antichi, allora a quale dimora si riferisce? Dice Rashi alle nubi, le famose nubi che servono da dimora per il dio dei tempi antichi, cioè Akadosh Barufu. Egli è infatti il più antico di tutti gli dèi, per forza, e scelse per sé alle nubi quale sua abitazione e dimora, dice Rashi, mentre di sotto, dunque sotto le nubi, sotto di lui, alla sua dimora, abitano tutti coloro che possiedono un braccio potente e a chi si riferisce? Parla di queste braccia del mondo, dunque come abbiamo detto appunto a Sihon e Og, il re di Tenan, che i quali costituivano la potenza e la forza del mondo. Per questo loro malgrado saranno presi da tremito e terrore e la loro forza si rivelerà fragile dinanzi a Hashem. Dunque dall'esempio di questi, di allora, dei più grandi potenti del mondo che erano rappresentati appunto da Sihon e Og e i re di Tenan, e questi però davanti a Hashem saranno presi dal terrore. Infatti sempre chi sta in alto, ed è Hashem in questo caso, incute paura a chi sta in basso ed è Hashem, ad Hashem, al quale appartengono la forza e la potenza a venire in tuo aiuto. Dunque anche i più grandi potenti del mondo non devono incutere in noi ebrei paura, ma loro piuttosto devono avere paura e avranno paura di Hashem, che è al di sopra di loro. Adesso, me o na a dimora. Allora, qui abbiamo nella Torah, nei Rash, innumerevoli volte, Rash porta questa, diciamo, parentesi grammaticale importante, che ogni qualvolta un termine richiede una lamed come prefisso, essa può essere sostituita da una e come suffisso. Questo lo vediamo tantissimo in tanti Rash. 28 Il secondo passuk di oggi, cosa ci dice? 28, ci siete? Secondo e penultimo. Israele dimora al sicuro e da su, nella condizione promessa nella benedizione di Jacob, in una terra di fumento e vino, dove persino, secondo la benedizione di Isaac, i suoi cieli stilleranno rugiada. Dunque, bellissime queste brakot, bellissime, questi sukim, che riportano queste brakot. Allora, ciascun dice Rash, ciascun individuo di Israele dimora sotto la propria vita e il proprio fico, come scritto in M'Lachim Aleph 1, capitolo 5, passo 5, facile da ricordare. Separato perché non ha la necessità di unirsi agli altri per abitare insieme a motivo del nemico, visto che è forte di per sé. Conforme a Yacov significa che in Israele sta solitario e questa è la brakha che ha ricevuto, ricevuto appunto da Yacov. Cioè, non è solitario nel senso riportato da Yirmiah, in Geremia 15, 17. Sedevo solitario perché mi avevi riempito di sdegno, questo per quanto riguarda Yirmiah. Ma, conforme alla promessa fatta lì da Yacov, che disse, quindi siamo in Bereshit 48, 21, la cesta con voi vi farà ritornare nella terra dei vostri padri. E anche la visione appunto di Yitzhak di Cherashi si aggiunge a quella di Yacov, Hashem, conceda, bruciata dal cielo. Del Rishit 27, 28. Ultimo passul di oggi, 29. Per concludere, tu sei beato, o Israel, chi è come te? Un popolo la cui salvezza proviene da Hashem, che è lo scudo in tuo aiuto, che agisce come la spada della tua potenza. I tuoi nemici ti mentiranno per non essere ucciso. Ma tu, proseguendo, calpesterai le loro alture. Dunque, ultimo Rashi, tu beato Israele. Vedo, dopo aver dedicato a ciascuno, siamo qui alla conclusione di tutte le berachot, di tutte le tribù. Dunque, dopo aver dedicato a ciascuno una benedizione particolare, dice a tutti di Israele, a che pro dovrei diffondermi con voi in particolare? Riassumendo, tutto è vostro. Tu beato Israele, e chi è come te? La salvezza è in Hashem, popolo salvato nel Signore, popolo la cui salvezza è posta solo, attenzione, solo nella Shekhinah, nella presenza divina. Poiché Hashem, che è lo scudo del tuo aiuto, è la spada della tua gloria. Li verranno menzogneri con te i tuoi nemici, e quanto fecero, ad esempio, Gizbonim, che vi ricordate, avevamo studiato insieme, che nel tempo di Ushua, sono arrivati dei Ushua, si sono fatti passare per degli abitanti da terre lontane, con questi abiti consumati dal viaggio, e dissero, i tuoi servi vengono da una terra lontana, in Ushua, capitolo 9, passuk 9. Poi, quando si sono accorti, Deni Broglio era troppo tardi, ormai avevano stipulato con loro il patto, se vi ricordate, e hanno fatto di loro tingitori d'acqua e tagliatori di lì. Ma tu calcherai le loro alture, conclude, è conforme a quanto è detto, in Ushua, sempre in Ushua, capitolo 10, passuk 24, ponete i vostri piedi sul collo di questi, con quel segno proprio di forza. E si conclude il Kumash, con l'ultimo capitolo 34, con la morte di Moshin. Allora, che leggeremo in sukim, in ebraico, con Rashi domani, ma siccome, appunto, siamo all'ultimo giorno, allora vi leggo velocemente l'ultima parte per poter fare un chazak, chazak e di chazak tutti insieme fortissimi. Allora, prossimo a morire, Moshin raggiunse il massimo livello spirituale e senza tappe intermedie salì dalle pianure di Moab fin sul monte Nebò, sulla sommità della vetta di fronte ai rifiuti. Hashem dimostrò tutta la terra di Israele e di ogni luogo, le sue vicende e i suoi futuri oppressori. So, praticamente l'hai fatto vedere un video oggi, si è, proiettato nel futuro, da Gilad fino a Dan, tutto il territorio di Naftali, la terra di Efraim, in Menachè, tutta la regione di Udà fino all'estremo umano, a Occidente, l'ultimo giorno del mondo. Dunque, proprio visto tutto quello che sarebbe poi successo dopo la sua morte nelle prossime generazioni, millenni in questo caso. Il territorio posto a sud e la pianura comprendente la valle di Eriho, la città delle palme, fino a Zohar. Palme, visto, rimaniamo in tema su Kot. Hashem dimisse, questa è la terra, a proposito della quale ho promesso ad Abram, Zakiakhov, dicendo loro, la darò la tua discendenza, te l'ho mostrata, perché la vedessi con i tuoi occhi e morendo, tu riferissi loro ai tuoi avi, ai tuoi patriarchi, a Abram, Zakiakhov, che ho mantenuto la promessa, ma là tu, Moshe, non potrai entrare. Da questo punto, chi scrive non è più Moshe Rabenu, ma è Yerushua. Secondo altri, invece, questo ci spiegherà un famosissimo, importantissimo Rashi, fu lo stesso Moshe, servitore di Hashem, che piangendo, scrisse su indicazioni di Hashem, che morì in quel luogo, nel paese di Moab, per mezzo di un bacio della bocca di Hashem. Hashem stesso, lo seppellì, nella valle, nel paese di Moab, il rimpetto a Veteor, nella sede a ciò destinata sin dalla creazione, in modo che il suo sepolcro potesse espiare quanto i ministri avrebbero compiuto lui. Fino ad oggi, nessuno mai è venuto a conoscenza del luogo della sua sepoltura. Dunque, non sappiamo dove è sepolto Moshe. Piccola parentesi veloce, visto che, per fare anche un mini sihad di chassidut e rev shabbat, come abbiamo l'abitudine, vi do un assaggio. Perché Moshe, uno dei motivi per i quali ha dovuto morire nel deserto, perché in questi 40 anni, dove sono tutti morti dai 20 a 60 anni, come sappiamo, per il peccato del Bittello d'Oro, per il peccato dei Meraglin, in realtà c'è tutta una discussione nella Gemara se nella Gemara se meritano la resurrezione dei morti o meno. Mi fermo un secondo, quando ho visto che siamo in sei, ho detto mannaggia, fino adesso che siamo nel mese di Sivan, di Tiscireio Sivan, Sivan è la barmizza di mio figlio, non a caso mi è venuto Sivan, sono molto emozionata, già da adesso, comunque, Tiscireio Siamo, e dico no, ci voleva la settima, ecco Francesca, tutti i settimi sono amati, eh? Francesca, grandissimo merito, grandissimo merito, fantastico. Ce l'ho fatta solo adesso. Eh, ma guarda che ha tutto ha dovuto essere la settima, hai un grande merito, nonché le altre no, eh, attenzione, la prima, che c'è il merito della prima, ma il due, il tre, sapete che ogni numero c'ha lì. Ecco, oggi la prima era graziella poi. Allora, dunque, vi stavo spiegando molto brevemente una sicha, che rebbe, dove spiega che in realtà c'è tutta questa discussione se Ibn Israel della generazione di Moshe Rabbeinu avessero o meno il merito di essere risuscitati quando molto presto Mashiach arriverà con la resurrezione dei novi. Dunque, una delle spiegazioni per le quali appunto Moshe è morto nel deserto con la sua generazione di modo da dare il merito alla sua generazione di poter essere risuscitati con lui. Tra parentesi importanti. Concludo, Yoshua figli di Nun, dunque, no, pardon, Ibn Israel, Moshe aveva 120 anni, pardon, quando morì, persino dopo la morte, come sappiamo, Moshe viene a mancare lo stesso giorno in cui è nato, che è un senno di grandizia di Kim, vuol dire che ha completato tutta la sua missione in questa terra, in questo mondo, e che, come sappiamo, era il 7 di Adam. Moshe aveva 120 anni quando morì, persino dopo con la morte, attenzione, il suo aspetto non si alterò e il suo corpo non perse la sua originale freschezza. Ibn Israel piansero Moshe per 30 giorni nelle pianure di Moab e quindi giorni di lutto per Moshe terminarono. Yushua, figlio di Nun, pieno dello spirito di sapienza divina, perché Moshe aveva imposto le sue mani sui piedi. Così, Ibn Israel li chiedero ascolto e fecero come Ashè aveva ordinato Moshe. Concludiamo, in Israele non è più sotto un altro profeta come Moshe, col quale Ashè aveva un rapporto informale come se si trovasse faccia a faccia. Nessun altro è a lui paragonabile per tutti i segni e i prodigi che Ashè aveva mandato a compiere intera legge contro il faraone, i suoi ministri e tutto il suo paese. Per tutto il vigore che gli fu necessario per portare con la sua mano le tavole della Torah, per tutti i miracoli che si dice che pesavano cioè non chi ma più quintali che chi. Dunque, ci voleva una forza sovrumana per le tavole della legge. Dunque, per tutti i miracoli anche avvenuti nel temibile grande deserto per quello che Moshe aveva compiuto davanti agli occhi di tutto Israele quando spezzò le prime tavole della legge e il suo atto fu approvato da Ashè e tutti insieme leggiamo l'ultimo passuk e abbiamo concluso tutto il ciclo ragazzi perché abbiamo cominciato più di un anno fa il Chitat e dunque leggiamo tutti insieme l'ultimo passuk e facciamo un bel khasar tutti insieme e Israele. 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 Hazat, Hazat. Hazat, venit Hazat. Hazat, venit Hazat. Dai ragazze. Domenica, partiamo da perishit, letteralmente che ho discusso, partiamo da perishit, letteralmente l'orario. Ok. Allora, concludiamo però il corso di oggi con il Tania. Allora, il Tania cosa ci spiega oggi? Miei diletti, miei fratelli e compagni. Così parte oggi il balla Tania con queste bellissime espressioni di amore e di affetto. eh dunque miei filetti, miei fratelli, compagni per l'immensità delle preoccupazioni che mi hanno avveluto, avvelito tutt'assieme e mi hanno circondato come acqua e giorno e notte senza posa e non danno mai tregua. non posso addossarmi il peso di dire per iscritto tutto ciò che c'è nel mio cuore, dice Balatani. Tuttavia, in breve, vengo a voi come uno che ricorda e ripete le cose dette all'origine al singolo e a tutti assieme coloro che si offersero volontari fra il popolo di addossarsi questo servizio divino, a quale servizio divino si riferisce? A quello della preghiera ad alta voce. per accrescere grandemente ogni energia e capacità di combattere contro ogni ostacolo interno ed esterno con forte mano proprio alla lettera. E' questo il desiderio di coloro che lo amano, come scritto in Tehlin 145-19, che sta al di sopra della sapienza e della saggezza che Hashem ha dato loro per sapere come compiere con intelligenza e conoscenza ciò che Hashem ci ha comandato. Ci deve essere solo volontà senza riserve e spirito di sacrificio in ogni uomo che è indotto dal proprio cuore a servire Hashem a servizio intero per sottomettere spontaneamente la propria volontà ad Hashem. E a proposito di questo è stato detto in Shemot 34-9 perché questo popolo è di dura certice ma tu perdonerai. Infatti anche il perdono trascende la saggezza poiché, come sappiamo, riportato nel tamo di Yerushalmi, essi chiesero saggezza, cioè la saggezza chiederebbe che al peccato corrisponda un'adeguata punzione normalmente, che sia possibile col pentimento, dunque con la chuvà, o col semplice perdono di evitare la condanna. Trascende quindi la saggezza ed attiene solo alla misericordia divina, cioè normalmente hai peccato, hai errato, devi pagare, punto a capo, punizione, ok? E' adeguata al peccato, ma noi ci appelliamo alla misericordia divina e diciamo di andarci caro dopo le punizioni o addirittura no, e accettare la nostra chuvà. Dunque Moshe, il nostro maestro, con lui chiese, in edarim, misura per misura, che basti a chiese l'intentere. Questo per quanto riguarda il Tanya di oggi, che siamo, che data siamo, René? Come? Oggi è di Teilim? Leggiamo? Teilim, allora, Teilim. 88 e 89. Che numeri? 89 e oggi è il diciottesimo giorno di Tishrei. Diciottesimo giorno di Tishrei, dunque bravissima. Ecco i Teilim di oggi e ci siete ragazze? Sì, ci siamo. Tenete anche sempre il segno sui Teilim del Rebbe della Ravanit, perché quelli come ogni giorno abbiamo preso questo bellissimo minhag di leggerli ogni giorno. Allora, ragazze, eccoci al Teilim, oggi abbiamo due fracchini, come ci abbiamo detto, René, fantastica, 88 e 89. Allora, allora, otan totto, tu ti ti siime, shir nizzmor di venne cora. Allora, ragazze, che immesso, allora, differentiation, leho, quando ci schiavo, atto, 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 atto atto, 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 atto 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 che mi figlia. Sì, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.